Più investiamo nel presente, prima raggiungiamo il futuro. Questa è l'idea che ci spinge ogni giorno a muovere il nostro paese verso la ripresa, a dare a tutti nuovi percorsi da seguire, a usare l'innovazione per essere più liberi di crescere, a esportare la nostra eccellenza italiana nel mondo, ad anticipare i cambiamenti per costruire un domani più sostenibile con tutti voi. Perché il futuro è la nostra destinazione solo se è un viaggio che facciamo insieme. Grazie a tutti. Buonasera dal Meeting 2021 da Enrico Castelli e da Massimo Bernardini. Allora, buonasera. Se ieri in questo nostro talk, il lavoro che verrà, abbiamo parlato del futuro, delle nuove professioni, insomma di come cambierà il lavoro, la puntata di oggi del nostro talk l'abbiamo intitolata PNRR e lavoro, cioè il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il Lavoro. Allora, che cosa prevede specificatamente però sul lavoro? Proveremo a capirlo oggi. Ecco, ci sono fondi per sostenere il lavoro del futuro? Quanti soldi, insomma, ci arriveranno dall'Europa per creare lavoro, proprio per questo? Sì, la pandemia ha fatto emergere, l'abbiamo visto nei giorni scorsi, i processi di cambiamento che hanno investito tutto il mono del lavoro, della smart working e tutto il resto. Ha fatto emergere gli squilibri presenti nel nostro Paese, la necessità di riforme significative proprio in questo settore. Ma per fare l'informe bisogna avere i soldi, ma questa volta i soldi ci sono, caro Massimo, perché il PNRR vuol dire soldi. Tanti soldi, vedremo di capire come saranno utilizzati con ospiti di primissimo piano. Ecco, nodi decisivi e abbiamo un parterre di ospiti autorevoli per affrontarli. Roberto Garofoli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Benvenuto qui a Rimini. Francesco Mutti, qui stasera come Presidente di Centromarca, che è l'Associazione dei Brandi Italiani di Consumo, ma insomma di cui conosciamo tutti i succulenti prodotti, insomma, legati al suo nome. No, Mutti, insomma, va bene. Francesco Baroni, invece, amministratore delegato di G Group, Agenzia per il Lavoro. Benvenuto. E, attenzione, in collegamento da Londra, dove insegna Economia, il professor Pedro Silva Martins, già Ministro del Lavoro del Portogallo. Buonasera, professore. Ti ascolta. Ti ascolta, professore? Senti? Provami a parlare, però, così... Va bene. Va bene, insomma, lo diamo quasi, insomma. Speriamo che poi, quando avrà la parola, lo potremo ascoltare. Ci occupiamo oggi di lavoro, ma ci occupiamo di lavoro Europa. Allora, vi facciamo sentire, partiamo con il primo servizio. Riprende, vi riproponiamo un breve passaggio del Presidente della Repubblica, Mattarella, fatto proprio qui al Meeting Rimi, all'inaugurazione del Meeting, sul tema dell'Europa. Andiamo a sentire cosa ha detto. È immaginare il domani. Sentiamo che cresce la voglia di ripartire. Il motore e la fiducia, che sapremo migliorarci. Che riusciremo a condurre in avanti il nostro Paese. La Unione Europea si fa motore di un nuovo sviluppo dei nostri Paesi. Uno sviluppo più equilibrato e sostenibile. È un'occasione storica. Che dobbiamo saper cogliere e trasformare in un nuovo, migliore e stabile equilibrio. C'è un io, un tu e un noi, anche per l'Europa e per le sue responsabilità, contro ogni grettezza, contro mortificanti ottusità, mista ipocrisia, che si manifestano anche in questi giorni, che sono frutto di arroccamenti antistorici e in realtà autolesionisti. Il coraggio dell'io oggi chiede una svolta, capace di contribuire a far sì che ai cittadini, le persone, siano protagonisti, anche nel nuovo contesto di interlocutori globali, che trascendono gli Stati e tendono a rendere, di conseguenza, più debole ogni influenza e controllo democratico. Anche da qui nasce l'esigenza di potenziare la sovranità comunitaria, che sola può integrare e rendere non illusorie le sovranità nazionali. La sovranità comunitaria è un atto di responsabilità verso i cittadini e di fronte a un mondo globale, che ha bisogno della civiltà dell'Europa e del suo ruolo di cooperazione e di pace. Le risposte emergenziali, come lo stesso piano Next Generation, debbano tradursi in un nuovo cammino di forte responsabilità comune. Allora, vengo da lei, sottosegretario Garofoli. Dunque, fra l'altro, grazie per una delle sue prime uscite pubbliche, giusto? Giusto. Immigrazie. Allora, il Presidente, poi con toni molto, come dire, autorevoli, insomma, parla di forte responsabilità comune. Ecco, come si traduce questo guardando al rapporto fra PNRR e lavoro, per esempio? Io direi che sono parole importantissime, soprattutto questo cenno finale, tutto il discorso del Presidente, ma questo cenno finale al senso di responsabilità comune è un cenno da cogliere nella sua importanza. La pandemia è stata una crisi senza precedenti, che ha colpito il Paese quando non erano ancora esauriti gli effetti di altre crisi. I dati sono noti, ma non soltanto il crollo del PIL, ma anche quel che è accaduto durante il periodo del lockdown, il periodo più severo nel 2020, il 45% delle imprese ha sospeso la propria attività, il 70% delle imprese ha fatto ricorso alla cassa integrazione. L'indice di fiducia dei consumatori è crollato del 41%, una variazione negativa cinque volte superiore a quella che si era registrata al momento del crollo delle borse. Tutto questo ha avuto inevitabili ripercussioni sul lavoro, sui livelli occupazionali, naturalmente attenuati dalle robuste misure di sostegno che sono state poste in campo nel 2020 e nel 2021. Ci sono alcuni ambiti del mondo del lavoro nei quali tutto questo si è verificato e registrato in maniera ancora più significativa. Penso ad alcuni ambiti da sempre problematici per il nostro Paese. Penso al lavoro giovanile, penso al lavoro delle donne. La pandemia poi, se posso, e poi vengo subito al cenno del Presidente, la pandemia ha anche accelerato, lo dicevate voi, che è emerso ripetutamente nel corso dei precedenti incontri del meeting, ha accelerato trasformazioni profonde che erano già in atto, in particolare la trasformazione digitale, ma anche quella dovuta alle politiche di ecosostenibilità. Tutto questo ha inevitabili ripercussioni sul lavoro, anche nel senso che impone e imporrà nuovi profili professionali, nuove competenze. L'Unione Europea calcola, o alcuni studi calcolano, che il 60% dei lavori del prossimo quinquennio sono tutti da definire, perché le imprese dovranno innovarsi, dovranno ridefinire le loro politiche industriali. Saranno necessarie nuove politiche, anche politiche di formazione educativa, politiche del lavoro, politiche attive del lavoro. Tutto questo richiede senz'altro un impegno, in disparte il piano, su cui credo parleremo dopo, richiede un impegno, come dire, fortissimo, e richiede un senso di partecipazione, di unità. E non dico soltanto di unità politica, dico anche di unità in senso ampio, per esempio di unità dei livelli di governo. Sarà necessario perché il piano possa essere attuato, un forte coordinamento tra i livelli di governo, tra le autonomie territoriali e lo Stato centrale? Grazie, ma allora andiamo a vedere esattamente che cosa prevede questo PNR. Quali sono i numeri fondamentali? Non tutti, naturalmente, ma alcuni importanti. Vediamo il servizio. In sintesi viene ormai comunemente chiamato PNRR, una sigla che ci accompagnerà in questi anni e che tradotto significa Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, approvato a pieni voti dall'Europa. 191 miliardi e 500 milioni le risorse stanziate per il nostro Paese, primo beneficiario della misura, fino al 2026, di cui 68 miliardi e 900 milioni in sovvenzioni e 122 miliardi e 600 milioni in prestito. Altri 30 miliardi in deficit saranno messi invece a disposizione direttamente dal governo italiano. Il capitolo del lavoro è inserito nella cosiddetta missione 5, inclusione e coesione, ritenuta fondamentale nel perseguimento degli obiettivi di tutto il PNRR. Le risorse dedicate a questo settore sono complessivamente quasi 20 miliardi, più specificamente oltre 11 miliardi per infrastrutture sociali, famiglie e terzo settore, quasi 2 miliardi per i cosiddetti interventi di coesione territoriale, mentre per le politiche del lavoro sono destinati 6 miliardi e 600 milioni, fondi che andranno alla formazione, al potenziamento dei centri per l'impiego, alla creazione di imprese femminili e al rafforzamento del sistema duale scuola-lavoro. Investimenti significativi che mirano ad accompagnare la trasformazione del mercato del lavoro, a migliorare l'occupabilità, riducendo le condizioni di disequilibrio tra domanda e offerta, uno dei problemi più evidenti della situazione italiana. Infine, per favorire e velocizzare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, alcune lauree, si parla di medicina, ingegneria, architettura e altri indirizzi, abiliteranno direttamente all'esercizio della professione, rendendo inutile l'esame di Stato. Fondamentali anche le altre direttrici del piano. Si parte dalla digitalizzazione necessaria per far correre il paese alla stessa velocità degli altri stati più avanzati, per la quale verranno utilizzati 43 miliardi e 550 milioni di euro. Altre 57 miliardi e mezzo serviranno invece per la transizione ecologica all'infrastruttura e alla mobilità sostenibile, una dotte di 25 miliardi e 330 milioni di euro, che serviranno per far viaggiare più velocemente le merci, ma anche le persone in tutta la penisola. Per quanto riguarda il capitolo scuola, via libera anche alla riforma del reclutamento degli insegnanti e al piano scuola 4.0 per la digitalizzazione del sistema scolastico. Monti, allora, una valanga di soldi. Dopo sentiamo, prima di far parlare sul segretario, però da lei, come imprenditore lei dove metterebbe questi soldi? Buonasera, innanzitutto come imprenditore, la prima cosa che fa un imprenditore è una buona gestione, quindi provare a fare tutte quelle cose che possiamo fare senza attingere a quei soldi, ovvero banalmente elementi come una giustizia certa e rapida, un incrocio più corretto tra domanda e offerta in termini formativi. La possibilità, l'Italia è un paese di eccellenza, dobbiamo essere sempre capaci di presentarci a livello verso l'esterno con un livello etico veramente elevato, se vogliamo riuscire a portare questo concetto di eccellenza verso l'esterno. E per far questo dobbiamo eliminare tutte quelle che sono quelle aree di illegalità, di non trasparenza, di non parità di trattamenti che alla fine rischiano di deturpare la concorrenza. Questi sono elementi a costo quasi zero. Il denaro credo debba essere investito in primis sulla formazione. La formazione ha un orizzonte lungo, ha un orizzonte che non dà un immediato ritorno sull'investimento, ma è quello che sicuramente dà il miglior ritorno sull'investimento. L'altro grande tema è dare competitività al nostro Sud. Il Sud è una parte di paese che sta soffrendo molto. Vengono molto spesso dedicate risorse finanziarie, ma a mio avviso credo occorrerebbe cambiare l'angolo. L'angolo che andrebbe dato è quello di rendere competitivo il Sud, renderlo un elemento di attrazione non per le risorse finanziarie che sono destinate al Sud, ma perché sto pensando banalmente al cuneo fiscale, sto pensando al costo energetico, perché abbassare questi costi attrae l'imprenditoria, aggiungendo un ultimo elemento che è quello di rendere sempre di più il Sud un centro dalla legalità garantita. Perché la buona imprenditoria, credo, abbia in primis necessità di luoghi di assoluta tranquillità dove ci si sa dialogare con lo Stato e lo Stato sa costantemente dialogare con le imprese. Grazie. Allora Garofali, lei è uomo del Sud, tra l'altro, quindi a che grado di cottura siamo per quanto riguarda il PNR? Abbiamo individuate le sei grandi macro aree, però lei ha raccomandato ai ministri di procedere dal punto di vista delle riforme che dovrete fare entro il 22. Ci dia un titolo per domani. No, io questo non sono capace di dare titoli per domani. Quello che posso dire è che il piano è stato approvato ed è stato approvato in modo molto, diciamo, convinto dagli organismi europei e anche la disciplina nazionale che delinea, forse ne parliamo dopo, il sistema di governance è stata approvata ed è una disciplina, è un modello di governance che ha una sua originalità. e questo piano, lei chiedeva prima a Mutti, in che cosa investirebbe se fosse lei a decidere. Il piano le scelte di fondo le ha fatte e importanti risorse sono destinate, saranno destinate e io credo questo sia molto importante, considerato quello che dicevamo prima a proposito delle trasformazioni del mercato del lavoro, dei nuovi skills, delle nuove competenze che saranno necessarie. una parte considerevole delle risorse sono destinate ai servizi della formazione, all'istruzione professionalizzante, alla riforma dei dottorati, allo STEM, alle politiche anche attive del lavoro, alla riqualificazione dei dipendenti. I nostri esperti dicono che in realtà questa somma di 6,6 miliardi arriva a quasi 20 miliardi presa da altri capitoli di spesa destinata alla formazione di nuove competenze per i lavoratori coinvolti nella rivoluzione digitale, nell'economia sostenibile. Quindi voglio dire che c'è anche tutto questo aspetto, è ancora di più, c'è ancora più gente. Ma non c'è dubbio. La responsabilità mi viene da dire di questa spesa. Guardi, anche tutte le risorse destinate alla digitalizzazione del Paese non sono soltanto 5G, cloud, interoperabilità, ma è opportunità a tutti, anche a chi vive per esempio nelle aree meno connesse del Paese di accedere ai servizi educativi o di avviare iniziative economiche. Oppure le risorse destinate agli asili nido e sono risorse importanti, 4 miliardi e mezzo, sono risorse che apparentemente non hanno nulla a che fare con il lavoro, ma invece sono molto importanti se guardiamo al lavoro femminile. E se posso dire, non è neanche una questione solo di risorse. Il piano ha previsto, e la legge approvata dal Parlamento ha già tradotto in norma tutto questo, la cosiddetta condizionalità giovanile e femminile. Cioè ha previsto che in tutti i bandi con i quali si indicano gare per l'affidamento degli interventi del piano le imprese che partecipano devono naturalmente nei limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, tenendo conto di quel che si affida, devono garantire quote di lavoro giovanile e femminile nelle loro imprese. Allora, cominciamo a aprire la prima nostra finestra sul mondo, come facciamo tutte le sere. Allora, lo faremo con due interviste. La prima ci arriva dalla Spagna è con il vice sindaco di Madrid, Begogna Villacis. Vediamo quali sono state, a Madrid, le priorità. Vi ringrazio molto per avermi invitato e vorrei condividere da Madrid ciò che stiamo facendo, non solo per affrontare la pandemia, la situazione pandemica globale, ma anche ciò che stiamo facendo per affrontare il nuovo mondo, il post-pandemia. Spesso tra l'opposizione e il governo, suppongo che questo accada ovunque, non solo a Madrid, c'è una certa tensione, il che è logico. Il compito dell'opposizione è quello di controllare il governo e logicamente dobbiamo governare al meglio delle nostre capacità. Abbiamo preso una decisione come governo piuttosto insolita. Siamo in un paese in cui stiamo vedendo come la politica, purtroppo, si stia polarizzando in schieramenti ed è una parola molto triste, ma è così. Eppure abbiamo deciso di fare qualcosa di abbastanza insolito, ma penso che abbia dato speranza a molti madrileni. Abbiamo deciso di sederci con l'opposizione. Quello che c'è molto chiaro è che nella Madrid post-pandemia dovremmo avere una priorità che è l'occupazione e logicamente le reti, perché ci sono situazioni di vulnerabilità che si sono aggravate con la pandemia. Sapevamo che se una persona è vulnerabile in generale è più vulnerabile anche al virus e questa vulnerabilità, insisto, è molto più acuta. Abbiamo visto come i nostri servizi sociali hanno ricevuto profili che prima non conoscevamo, quindi abbiamo definito come strategico il punto numero uno, il più importante di tutti, il più cruciale, la massima priorità per questa Madrid post-pandemica, l'occupazione, senza trascurare tutti gli altri. Sappiamo anche perfettamente che chi genera occupazione sono le nostre piccole e medie imprese e i nostri lavoratori autonomi, quindi il primo pacchetto di misure da economia sono state adottate proprio per aiutare le nostre imprese, per aiutare i nostri lavoratori autonomi, per aiutare le nostre PMI. Siamo riusciti a portare avanti un plan renove dell'industria, il primo e più importante piano industriale per Madrid del valore di 11 miliardi di euro che si sta già attuando, sostenendo l'industria madrilena perché abbiamo anche imparato dalla pandemia che dobbiamo essere autosufficienti. Penso che questa sia una lezione che tutte le città hanno imparato. Abbiamo anche sostenuto settori particolarmente svantaggiati. La prima cosa che abbiamo fatto è stato abbassare le loro tasse, quelle relativi alla proprietà, l'IBI, la tassa sugli immobili. È stata abbassata la tassa sulle attività economiche, la tassa sulla raccolta dei rifiuti e abbiamo eliminato la tassa sull'occupazione del suolo pubblico per le terrazze. La verità è che potremmo parlare molto di questo, ma volevo anche dirvi come la pandemia ci ha cambiato, come ha cambiato le nostre strategie. Per esempio, uno strumento fondamentale per l'occupazione è stata l'Agenzia per l'occupazione di Madrid che aiuta le persone che hanno difficoltà a trovare lavoro, facendo corsi di formazione. L'Agenzia agisce come intermediario in modo che possano tornare al lavoro. Si è specializzata in gruppi particolarmente vulnerabili, i gruppi che hanno più difficoltà a reintegrarsi. Certo, prevediamo aiuti per i casi di emergenza, aiuti per bisogni speciali, abbiamo un reddito minimo di vita. A Madrid si è costruita una rete molto importante che viene dal comune, dalla regione, e a livello statale. Ma la mia idea di città è una città dove la gente ha uno stipendio e non deve vivere di questa rete, dove la gente ha autonomia, dove la gente può guadagnarsi il proprio pane, perché questo è ciò che tutti vogliamo, ciò che dà dignità, ciò che continua a formarti e anche psicologicamente dopo una pandemia così dura ti sembra più importante che mai. Abbiamo optato per l'educazione e abbiamo optato per la formazione. Stiamo anche facendo emergere la solitudine indesiderata perché gli anziani sono stati il gruppo che senza dubbio è stato colpito più duramente. Ma ora, dopo aver passato tutto questo, credo che si stia aprendo una nuova Madrid, una nuova opportunità. La stiamo vedendo. Grazie mille. Ascolterò attentamente tutte le vostre esperienze per vedere se avremo presto l'opportunità di incontrarci di persona. Grazie a tutti. Basto programma, verrebbe da dire, veramente a 360 gradi, però stiamo sempre nella penisola iberica in maniera un po' strana, ci spostiamo in Portogallo però andando a Londra. Allora, Pedro Martis, lei è stato ministro del lavoro anche, oltre al professore a Londra che è in questo momento. Allora, che effetto le fa la vicesindaca di una capitale europea importante come Madrid che parla di occupazione come punto cruciale del suo programma per uscire dal loro programma per uscire dalla pandemia? L'occupazione è fondamentale innanzitutto per quelle che sono le ragioni più ovvie le persone devono poter guadagnare per poter avere una vita attiva ma l'occupazione è importante anche per moltissime altre ragioni perché è il luogo in cui si formano competenze dove si incontrano amici e colleghi dove si ha una vita sociale quindi questa crisi ha portato a un grande cambiamento dell'economia credo sia estremamente positivo vedere che l'Unione Europea questa volta ha deciso di rispondere e di reagire in modo attivo ed in modo energico con una serie di programmi che riguardano tutti gli Stati membri che potrebbero costituire la giusta risposta a queste sfide ci sono tutta una serie di aspetti sui quali potremo tornare successivamente relativamente a come questi programmi possono in effetti avere un impatto estremamente positivo in particolare per quanto riguarda gli aspetti legati alla trasparenza al controllo alla valutazione e credo ecco che sia questo un ingrediente fondamentale per garantire il successo di questi programmi quindi anche un giusto allineamento di queste misure dal punto di vista degli aspetti sociali degli obiettivi sociali ci saranno chiaramente molti attori coinvolti in questi programmi a livelli diversi che quindi faranno richieste di questi fondi che verranno destinati in modi differenti è molto importante tenere quella che è la traccia di queste decisioni in modo che i risultati e l'impatto siano il più forti possibile se ricolleghiamo con lei tra poco Francesco Baroni lei è country manager di G Group una delle più importanti agenzie per il lavoro a livello europeo investire sull'occupazione si fa in fretta dirlo potremmo tradurlo forse con uno slogan ma voi che come dire siete impegnati a cercare a formare per il lavoro come giudica questa priorità che lacci e laccioli dobbiamo liberarci in Italia sappiamo tutti che il mercato del lavoro in Italia è uno dei più complessi al mondo e la complessità non aiuta a rendere fluido a rendere efficiente appunto il mercato e quindi a facilitare la creazione di occupazione nello stesso tempo sappiamo bene che non sono le regole che creano i posti di lavoro i posti di lavoro si creano se c'è un mercato competitivo le missioni del PNR così come sono state pubblicate così come si inizia a poterle conoscere e approfondire possono essere veramente una grande opportunità almeno per due motivi da una parte cercano mi sembra in modo molto puntuale di colmare dei gap di investimento in quelle infrastrutture materiali e immateriali che servono per la competitività del Paese e dall'altra parte mi riferisco in particolare alla missione numero 5 si sono poste come obiettivo quello di far fare a tutto il nostro sistema un grande passo avanti dal punto di vista delle politiche attive le politiche attive sono un elemento fondamentale dal mio punto di vista per quella che è la nostra visione del mercato del lavoro per aiutare a vivere con maggior appunto efficienza ed efficacia quello che sta succedendo sul mercato del lavoro perché da una parte è un mercato che sempre di più si caratterizza per continue transizioni transizioni legate al cambiamento di competenze transizioni legate al fatto che non esiste più il concetto di posto fisso questo continuiamo a dircelo ed è risaputo transizioni legate all'accelerazione dei cambiamenti in essere quindi poter avere delle politiche attive che funzionano è veramente un elemento importante fra l'altro siamo in una situazione particolarmente fortunata perché possiamo lavorare con le risorse del PNR in un momento in cui non solo guardiamo a un'evoluzione generica del mercato ma guardiamo la situazione dove abbiamo davanti un PIL che cresce del 5% e per poter avere le competenze le risorse che servono a sviluppare questo valore questo volume di valore bisogna portare le persone a lavorare e quindi è questo un momento fondamentale per passare da una prevalenza di politiche passive a una prevalenza di politiche attive sono anni che se ne parlano fare politiche attive non è facile non è facile per tanti motivi il primo motivo perché si lavora sulle persone ed è più facile dare a una persona uno stipendio che in qualche modo attutisce il bisogno la soddisfazione il valore piuttosto che mettere in moto motivarle aiutarle a avere le competenze che servono una sottile polemica con le due cittadinanza ma non è una polemica io la vedo in positivo guardando quello che è successo in Europa l'Italia ha avuto per esempio con gli ammortizzatori sociali un'opportunità gigantesca che altri paesi non hanno avuto perché? perché ha aiutato le aziende in un momento in cui sono state costrette a fermarsi a non perdere il proprio capitale umano però altri paesi altri paesi usano meglio i fondi europei per esempio però è un argomento che non vorrei introdurre con lei perché vorrei mandare un po' dopo perché la nostra pagina estra inizia con l'intervista al vice ministro di istruzione polacco da cui dobbiamo forse imparare qualcosa come usare i fondi europei forse anche per il futuro sentiamo l'intervista i meccanismi normativi hanno fatto sì che l'attrattiva della Polonia si sia modificata e modellata nel corso della storia i primi investitori si concentrarono sull'approfittare del basso costo del personale che lavorava nelle loro aziende ma tutto rimaneva nell'ambito della cosiddetta mano d'opera a basso costo il che anni fa era un'occasione facile di guadagno il secondo fattore che attira gli investitori erano le aree a disposizione qui la cooperazione con le amministrazioni locali è stata cruciale così come lo è stato fornire a questi terreni tutti i servizi necessari in modo rapido ed efficiente e come lo è stato facilitare il processo di investimento e questi aspetti sono stati importanti fino ad oggi anche se stanno cambiando ad esempio la Polonia non è più uno dei paesi più economici per quanto riguarda la mano d'opera cerchiamo comunque di offrire le migliori risposte possibili agli interessi degli investitori fornendo personale sempre più preparato e qui mi riferisco a tutto il sistema dell'istruzione settoriale a cosa proporre come programmi di studio e a come farlo a come integrare il rapporto tra studio e lavoro non apparteniamo più alla pace d'Europa che sta inseguendo l'Occidente ma ormai facciamo pienamente parte dell'Europa sviluppata il che conferma che la Polonia sta diventando un partner molto importante quale ruolo ha giocato l'Europa per conseguire questi obiettivi se non fossimo entrati nell'Unione Europea e quindi non avessimo avuto l'ampio supporto per questa nostra dinamica di sviluppo non saremmo stati in grado di raggiungere questo successo dall'inizio e fino ad oggi abbiamo avuto bisogno delle normative europee regole che dimostrano che l'Europa deve puntare ad essere un continente incentrato sullo sviluppo sostenibile e nel quale le attività di cooperazione internazionale e sociale e quelle riguardanti lo scambio scientifico tra giovani sono importanti quando c'è scambio e ci sono investimenti otteniamo accesso alle moderne tecnologie anche nella dimensione economica dopotutto quegli etteri di capannoni di produzione che sono apparsi grazie agli investimenti esteri sono in gran parte investimenti basati su moderne tecnologie che vantano innovative linee di produzione abbiamo appreso rapidamente la cultura economica l'organizzazione aziendale e l'uso delle nuove tecnologie e ora piano piano anche noi possiamo in una certa misura fare da maestri e questo è un ottimo risultato siamo grati che dopo un inizio difficile dopo aver superato quel periodo di economia non liberista pianificata a livello centrale quando la Polonia veniva sfruttata dal sistema comunista adesso ci stiamo spostando verso l'economia orientata sia al mercato che agli aspetti sociali pertanto in questo momento difficile post pandemico il sostegno alle istituzioni e dalle imprese nonché le risorse finanziarie dell'Unione Europea sono estremamente importanti e necessarie in fin dei conti il nostro grande piano nazionale di rilancio si basa su quei miliardi di fondi europei che sono o saranno dedicati alla Polonia per questo motivo vogliamo utilizzare quegli ingenti fondi europei come un ulteriore impulso per lo sviluppo economico e per il rafforzamento di quanto già realizzato e per il rafforzamento e per il rafforzamento per il rafforzamento e per il rafforzamento mentre ci ha raggiunto Massimo Ferlini che è il coordinatore del Dipartimento Lavoro della Fondazione per la Sussideretà che fra poco interverrà nel dibattito io voglio chiedere al sottosegretario Garofoli come dire insieme di commentare queste prospettive insomma che ci ha lanciato il ministro polacco perché abbiamo capito che i polacchi si sono mossi con molta intelligenza ha descritto cioè questo concetto di ettari di capannoni è interessante ma ancora più interessante una battuta che è circolata qui il professor Vintanin c'ha detto l'altro giorno i fondi polacchi hanno usato per le loro autostrade i soldi che gli italiani non spendevano i soldi europei allora magari una butade non lo so insomma non l'abbiamo approfondita però c'è stato fin qui un problema italiano nell'impiego dei fondi e come si può intervenire per cambiare questa situazione visto che stanno arrivando quelli ancora più ingenti del PNRR no c'è stato senz'altro e nella programmazione 14-20 siamo stati e siamo in ritardo nell'utilizzazione dei fondi credo che siamo ancora al 40% quando sta partendo la nuova programmazione e le cause sono un po' diverse abbiamo concluso in ritardo l'accordo di partenariato sono state individuate in ritardo le autorità di gestione il piano però risponde anche a regole diverse il piano nazionale rispetto ai fondi di coesione le cause sono diverse le cause su cui incidere i fattori su cui incidere come è noto c'è un ritardo o un deficit non possiamo nasconderlo della capacità amministrativa della capacità delle nostre amministrazioni della macchina della macchina esattamente della macchina amministrativa dello Stato la macchina polacca è migliore della nostra non sto dicendo questo la nostra è una macchina che è un po' usurata e che senz'altro ha subito un declino tecnico in questi anni ha subito un declino tecnico dovuto a diverse cause e non ultimo le politiche di spending che avevano una loro ragion d'essere quando sono state poste in essere c'è stato un blocco fortissimo del turnover che ha battuto l'età media ha inciso sulla formazione dei dipendenti pubblici sulla digitalizzazione dell'amministrazione il piano ci dà l'occasione per intervenire su questi fattori però Mutti è d'accordo con lei sto notando senza altro in questi anni la nostra macchina è stata usurata il fatto di avere correttamente risparmiato in termini di struttura nel medio tempo ha portato comunque dei livelli di professionalità più bassa senza altro una mancanza di digitalizzazione da parte degli operatori la rivisitazione dell'intero sistema è uno tra i passaggi noi non possiamo dimenticare che il sistema paese è un paese che vive oggi un 2021 straordinario veramente un pil che sta crescendo abbiamo avuto una serie di successi dallo sportivo all'economico però veniamo da 20 anni di sostanziale stagnazione cioè noi per 20 anni abbiamo avuto un paese incapace di crescere quindi questo ci deve porre delle domande che vanno al di là di quello che è l'immediato ma proprio come rimettere mano alla macchina e come farla ripartire con una visione di lungo tempo io non vorrei figurare per un filo polacco con l'ossessione della Polonia però in Polonia hanno creato per esempio le cosiddette zone speciali facilitazioni fiscali e infrastrutturali che hanno attirato aziende da tutte le parti del mondo ne avete approfittato anche voi per esempio noi non ne abbiamo approfittato noi siamo italiani 100% italiani anche come produzione ma senz'altro credo che quello che provavo a dire prima è giusto dare anche incentivi in termini finanziari ma noi dobbiamo creare delle condizioni affinché l'imprenditoria trovi un terreno fertile lì si sviluppa l'imprenditoria più sana quella che non arriva per cogliere il contributo e poi magari con una parte di quel contributo sparisce con delle aziende deboli noi dobbiamo creare un terreno fertile e poi l'imprenditoria che comunque in Italia esiste ed è importante e poi la possiamo attrarre anche da altre parti dell'Unione può insediarsi e può sviluppare sempre con delle politiche di lungo termine io se posso lanciare un messaggio è sempre quello che un paese non si costruisce con una visione alle prossime elezioni ma occorrerebbe avere delle visioni a 10 a 20 forse anche a 100 anni questo è l'elemento di fondo per guardare a 100 anni bisogna avere una classe giovanile preparata che ci aiuti a guardare il futuro torniamo all'Italia torniamo a un dato invece drammatico secondo la Corte dei Conti lo vedremo nella tabella tra poco negli ultimi 8 anni è aumentato del 41% il numero dei giovani italiani che vanno all'estero un dato impressionante nel 2018 117 mila italiani sono andati all'estero 30 mila ecco quella tabella 30 mila sono laureati semplificamente e semplificando un po' troppo forse giornalisticamente questo fenomeno viene identificato come la fuga dei cervelli però Ferlini lei come responsabile del Dipartimento Lavoro della Fondazione Sociedà a lei non piace questo termine allora ci aiuti a capire perché? perché diventa anche un elemento del dibattito con una battuta noi siamo per accettare i migranti e poi siamo contro gli emigranti mi sembra una contraddizione in termini ma soprattutto bolla come negativo un comportamento che è quello dei giovani che invece hanno intenzione di cercare di realizzare fino in fondo se stessi si mettono in gioco fino in fondo e che quindi sfruttano anche le opportunità che la globalizzazione ha permesso e che ci ha portato quindi perché bollarli negativamente? bisogna capirne il fenomeno capire la loro importanza e nel caso offrire di condizioni invece perché il paese possa valorizzare fino in fondo le sue capacità ma non certamente bollarli negativamente questo è il punto e noi abbiamo provato allora a capire queste ragioni abbiamo provato abbiamo intervistato non ha nessun valore di sondaggio scientifico evidentemente domani c'è quel presidente dell'istat non vorremmo fare concorrenza ma dieci giovani sparsi per tutta l'Europa abbiamo fatto due domande sentiamo le loro risposte ho lasciato in Italia perché volevo esplorare il mondo volevo imparare volevo migliorare il mio inglese e volevo cimentarmi con l'accademia internazionale l'accademia italiana era al tempo forse ancora oggi un po' chiusa o comunque non non aperta come quella anglosassone quindi sono voluto andarmi a cimentare in Gran Bretagna ho ricevuto un'offerta lavorativa nel 2015 da un'azienda aeronautica e ho detto va bene perché no il mio lavoro è presente in Italia e c'è mercato semplicemente si è creata un'opportunità di crescita a livello internazionale interessante diciamo questo io mi sono spostato per fare il lavoro che desideravo fare il problema poi è questo perché siamo in giro per l'Europa perché non troviamo posto in Italia quindi questa condizione riguarda me ma anche tante altre persone che conosco in questo momento nel mio centro di studi a Colonia c'è effettivamente io credo una maggioranza di italiani sul totale delle persone che lavorano lì mi ricordo sono partito perché per la proposta che mi avevano fatto diciamo ho appena laureato avevo 22 23 anni 22 anni in un momento della mia vita che mi si apriva il mondo del lavoro tante possibilità eccetera l'ho considerata come opzione stavo completando il dottorato al Politecnico di Milano io ero già sposato avevamo una bimba e diciamo non c'erano grandi possibilità il classico magari assegno di ricerca forse ho ricevuto una proposta per fare un dottorato all'estero quando nella mia mente c'era di fare il dottorato ma lo avrei fatto abbastanza in automatico in Italia cioè non me l'ero posto come problema andare all'estero e poi invece è capitato e quando ho fatto questo colloquio sono rimasta molto colpita dalle possibilità allora a me sembra spesso che rispetto all'Italia qua siamo messi in un ambiente che ci spinge di più ad avere quello che ci serve per fare il lavoro che facciamo mentre mi sembra spesso che in Italia uno debba lottare per ottenere quello che ti serve per fare quello che vorresti fare questo respiro internazionale che mi ha dato la prima uscita mi ha come allargato l'orizzonte per cui mi sento un po' a casa dove vado non ho attualmente il bisogno di rientrare ho visto un aspetto di crescita sulla mia attività lavorativa e sicuramente c'è più facilità di crescita da un punto di vista di formazione nel senso che le aziende in cui sono stato facilitano molto questo aspetto investono molto sulla formazione dei dipendenti così che ho trovato un modo di lavorare che è più efficace più semplice una prospettiva senza pregiudizi di genere e di età molto ancorata alle prestazioni personali e molto poco ai pregiudizi c'è paradossalmente una maggiore trasparenza per quel che riguarda la relazione fra il merito e l'appoggio di un docente nel senso che io per applicare a Colonia ho dovuto indicare nel modulo ufficialmente il nome di un professore di Colonia che fosse disposto a seguire il mio lavoro come supervisor uno va perché c'è qualcuno che vuole lavorare con lui in quel posto è così anche in Italia ma in Italia non si può dire gli strumenti che vengono messi in mano ai ricercatori ai professori universitari e quindi poi a cascata anche ai dottorandi ai giovani ricercatori sono molti di più ed è un peccato perché l'Italia ha un'ottima base di preparazione e quindi avrebbe una potenzialità enorme beh insomma mi pare che ha messo in campo una descrizione impressionante proprio di di novità che viene dalla loro esperienza però io voglio andare fuori perché vado al professor Martins perché allora anche il Portogallo è stato evidentemente un paese di grandi immigrazioni fra l'altro mi viene da dire lei appunto è portoghese ma sta insegnando a Londra ecco scusi la uso per per tirarla dentro in questo racconto innanzitutto le chiedo lei perché come le è capitato di lasciare il Portogallo e però le chiedo anche di giudicare questo fenomeno di giovani in movimento neanche il doppiaggio che succede stavo dicendo che la mia esperienza personale è molto simile a quelle che hanno raccontato i giovani intervistati nel servizio anch'io ho lasciato il Portogallo per studiare per il mio dottorato sono rimasto nel Regno Unito per molti anni così come hanno detto i colleghi presenti a Rimini il Regno Unito rappresenta un'economia flessibile con un mercato del lavoro flessibile e c'è un grosso sostegno per le imprese e questa con l'imprenditorialità è fondamentale per lo sviluppo delle economie e per la realizzazione di condizioni di lavoro migliore in generale quindi io sono devo dire favorevole a questo processo a questo fenomeno di movimento di spostamento verso paesi diversi a volte ci si preoccupa di questo fenomeno della fuga di cervelli il fatto quindi che i talenti abbandonino il loro paese natale ma io personalmente preferisco guardare a questo fenomeno come ad una circolazione mobilità di cervelli di cervelli di menti di occhi di orecchie che cercano nuove opportunità che acquisiscono nuove competenze e poi in un futuro potrebbero ritornare da dove sono partiti e quindi abbiamo tra l'altro l'opportunità del lavoro in remoto dell'occupazione in remoto che costituisce di per sé una grande opportunità soprattutto per i paesi del sud europeo e quindi questi piani speriamo possano creare le condizioni favorevoli per far crescere il lavoro in remoto quindi anche se spostarsi e andare a lavorare in altri paesi rappresenta comunque un qualche cosa di positivo se si desidera rimanere nel proprio paese si potrà farlo ma si potrà avvalersi di diverse opportunità utilizzando questi nuovi strumenti e per concludere nonostante io lavori nel Regno Unito la settimana prossima torno in Portogallo con un nuovo lavoro che inizierò la settimana prossima quindi vedete le cose cambiano quando le opportunità ci sono quando le economie sono forti le persone ritornano a casa voi siete presenti tutta Europa ecco questa circolazione in positivo di cui parla il professor Barsi che effetto le fa? a me sembra dalle storie raccontate che tutti questi ragazzi alla fine hanno scelto per un meglio non sono scappati hanno scelto per qualcosa di maggior valore tutto il mercato del lavoro oggi è caratterizzato da un problema che non è più quello di non avere lavoro a sufficienza ma di non avere lavoratori a sufficienza questo vale sia per le figure con profili più modesti ma vale anche per i laureati o per persone ad alta competenza e questo fa sì che per le aziende è sempre più importante essere capaci di essere attrattive essere capaci di offrire opportunità e quindi in un paese come l'Italia dove comunque c'è un'università che sa generare valore che sa creare ragazzi in gamba diventa facile tutto sommato fare delle proposte attrattive e quindi stimolare a poter scegliere per un'alternativa ecco in questo dal mio punto di vista penso che per un paese come l'Italia e per le aziende dell'Italia lavorare sull'attrattività come sentivamo prima lavorare sulla flessibilità è fondamentale è fondamentale proprio per poter trattenere le persone di maggior valore questa è la sua idea di imprenditore tra poco passeremo a parola al dottor Garofoli ma andiamo a vedere se questi giovani sarebbero disposti a rientrare in Italia e che domande fanno a loro volta il secondo spezzone per adesso no per adesso non sto provando a ritornare in Italia perché il lavoro che io sto facendo è molto stimolante è molto interessante dal punto di vista della sfida diciamo perché stiamo con la mia azienda aprendo un mercato nuovo in Germania le cose stanno andando molto bene non ho accettato dei rientri che fossero al di sotto di di valentieri farei anche la fatica se il lavoro fosse interessante o potrei contribuire a qualcosa per l'Italia non sarebbe lo stipendio forse il discriminante naturalmente devo fare la fine del mese una delle cose che a me colpisce è che spesso vogliono rientrare in Italia solo gli italiani il giorno in cui l'Italia nella ricerca diventasse affascinante per gli stranieri a quel punto secondo me avremmo ottenuto che i migliori italiani vorranno tornare questo cosa vuol dire vuol dire che se rientri devi essere messo nelle condizioni ad esempio di fare la ricerca al meglio che puoi l'anno scorso mi hanno offerto la possibilità di tornare come professore associato a Roma e l'ho rifiutata perché non erano condizioni che permettevano a tutta la mia famiglia di vivere e lavorare così come abbiamo fatto negli ultimi anni le facilitazioni per il rientro dei cervelli sono certamente attrattive da un punto di vista fiscale sono molto molto interessanti sia per un accademico come me che per una persona come mia moglie che lavora nel privato il problema è che la legge è stata scritta in maniera a mio avviso incompleta per cui lascia di fatto una spada di damocle a chi rientra tale per cui l'agenzia delle entrate può fare i controlli fino a 5 anni dall'ultimo anno del beneficio è fondamentale a mio avviso che venga prevista una certificazione preventiva non oppugnabile dall'agenzia delle entrate si deve dire in anticipo se uno rispetta i requisiti e una volta che è stata data l'autorizzazione i controlli vengono fatti solo in caso di dolo qui penso che prima o poi rientrerò non ho ancora piani sul futuro però penso che prima o poi succederà prima o poi succederà poi quando si va a vedere le pieghe delle regole si scoprono che questa questione dell'agenzia delle entrate mi è stato veramente un po' scioccato perché obiettivamente nessuno ha messo su famiglia 3 o 4 figli e tornare qui alla spada di damocle non torna più già a poche ragioni non torna più posso dire che assolutamente noi innanzitutto sono d'accordo quando si diceva che non bisogna bollare negativamente io ho una grandissima ammirazione guardando a questo fenomeno individualmente ho una grandissima ammirazione per questi giovani che vanno all'estero che vanno talvolta per lo dicono per realizzare esperienze professionali nelle università ma ce ne sono tanti anche negli ospedali non soltanto nel mondo della ricerca e sono d'accordo anche con il professore al quale faccio i miei migliori auguri per il suo rientro in Portogallo che nella sua anche complessità è un fenomeno questo della circolarità delle esperienze delle competenze è un fenomeno positivo nel suo complesso quel che però occorre dire è che noi dobbiamo avere e recuperare una capacità di attrarre questi giovani nel nostro paese guardandolo invece dal nostro punto di vista dal punto di vista dell'Italia perché i giovani talenti dobbiamo cercare di portarli nelle nostre imprese e se posso dire anche nelle nostre amministrazioni pubbliche e lo dicevamo prima il 70% dei giovani oggi non vuole entrare nell'amministrazione pubblica il 35% un po' emergeva da quello che dicevano in queste interviste il 35% dei ragazzi dei giovani italiani crede che il merito nelle amministrazioni pubbliche non sia adeguatamente valorizzato non soltanto nell'accesso nell'amministrazione ma poi nei percorsi di crescita professionale c'è una crisi di vocazione nella pubblica amministrazione che io credo sia una pessima notizia perché la nostra amministrazione ha bisogno di questi giovani e ne avrà bisogno tantissimo per il piano per quel che andrà fatto questo è un gap che va recuperato con adeguate politiche di diverso tipo occorre puntare sull'innalzamento delle competenze sulla motivazione sullo spirito di appartenenza anche su alcuni voci del sistema retributivo anche su alcuni blocchi che oggi impediscono la molteplicità delle esperienze professionali posso dirle una cosa soltanto nei prossimi mesi nei prossimi anni entreranno migliaia di giovani nelle amministrazioni pubbliche e tanti ne entreranno e a loro compete concorrere a dare slancio a quella burocrazia buona di cui il nostro paese ha un bisogno vitale ha parlato di attrattiva il sottosegretario ma per esempio Centromarca è attrattivo per una generazione più giovane che cerca lavoro Centromarca assolutamente sì io credo sia stato molto interessante quell'intervento fatto dal ragazzo che diceva noi non dobbiamo calibrarci sugli italiani che vogliono rientrare in Italia non deve essere solamente l'amor patrio che ci spinge a rientrare noi dovremmo calibrarci su come facciamo a essere attrattivi per persone inglesi tedesche perché in questo modo poi riusciremo in primis ad attrarre i nostri italiani ed in generare talenti nella misura in cui andiamo solamente a fare una politica di attrazione di riattrazione dei nostri cervelli abbiamo già un obiettivo tendenzialmente un po' basso quindi partire con degli obiettivi importanti e ripeto il sistema paese credo sia una fotografia che è stata fatta chiarissimo ha bisogno di una revisione importante della macchina riuscire a ricostruire un'amministrazione pubblica che sia capace di dialogare di dare slancio e mai essere invece vincolo o lacciuolo per la crescita e lo sviluppo siamo arrivati no no rubiamo tre minuti ah ne abbiamo ancora ne abbiamo ancora tre ne abbiamo ancora cinque perché abbiamo sforato no Baroni però credo che voi possiate giocare un ruolo o no in questo rinnovamento del paese sulla questione del lavoro le agenzie per il lavoro hanno un ruolo oggi centrale dicevo prima che mi sembra importante che il PNR abbia questa attenzione importante sul tema delle politiche attive proprio per questo motivo perché la politica attiva serve per aiutare le transizioni le transizioni caratterizzano il mondo del lavoro sempre di più e quindi da questo punto di vista se vogliamo far funzionare il mondo del lavoro abbiamo bisogno delle capacità delle competenze dei sistemi per poter far questo ok in questo la collaborazione fra pubblico e privato è uno di quegli elementi fondamentali prima quando si citava la Polonia la Polonia è un contesto che ha saputo fare della collaborazione pubblico privato tesoro proprio su quelle politiche anche quelle del lavoro per poter essere più efficaci per poter essere più efficienti oggi questa collaborazione anche rispetto agli investimenti sui centri per l'impiego che io condivido perché è giusto avere un'infrastruttura che si rafforzi da questo punto di vista deve però tener conto del fatto che se si vuole dare un servizio di valore bisogna avere le competenze l'organizzazione i processi i sistemi tali per cui lavorare sulla persona e lavorare sulla conoscenza del mercato che porta a migliorare l'ingrocio fra domanda e offerta è fondamentale Ferlino un'ultima battuta da queste risposte alla fine si ha l'impressione che però le ragioni per un eventuale rientro non sono solo economiche c'è qualcosa di più profondo dentro è evidente che qui la riflessione che ci costringono a fare le risposte che hanno dato questi nostri giovani che sono a fare esperienze all'estero riguardano il sistema e quindi l'attrattività del sistema d'altro canto questo il nostro paese ha bisogno di più gente al lavoro quindi deve porsi il problema di far crescere le occasioni di lavoro per tutti sia per le donne creando le condizioni per il lavoro familiare aumentando la dignità dei contratti che offriamo ai giovani che si affacciano sul mercato del lavoro migliorando di molto le condizioni del lavoro che c'è nel mezzogiorno del paese questi sono i tre gap principali e affrontando queste ambizioni di sistema che diventiamo attrattivi sia per i cervelli internazionali che sono disposti a venire nel nostro paese a rimettere in moto e a far circolare di più il lavoro e quindi anche le grandi capacità che il nostro paese ha certo allora Enrico siamo arrivati alla fine corro allora ringraziamo Roberto Garofoli sottosegretario alla Presidente del Consiglio Francesco Mutti Presidente di Centromarca Francesco Baroni amministratore regato di G Group Massimo Fernini della Fondazione per la Sussidiarietà e naturalmente il professor Pedro Silva Martins da Londra allora domani torniamo con l'ultima siamo arrivati alla fine siamo arrivati alla fine ecco ultima puntata del nostro talk il titolo è i lavori che verranno naturalmente il ciclo e domani il lavoro o la vita il lavoro o la vita anzi punto di domanda come sempre in diretta alle 19 streaming sul sito del meeting 2021 dove potete trovare i nostri servizi in forma integrale sul sito della Fondazione per la Sussidiarietà e sul sito di Repubblica avremo come ospiti Giancarlo Giorgetti Marco Annappel Giancarlo Blanciardo e Roberto Giacchi ricordiamo che il meeting per sostenersi ha bisogno del vostro contributo del nostro contributo e una parte di questo contributo quest'anno sarà devoluta alla Welcome House di Kampala Uganda dove Ross Businghe accoglie bambini e ragazzi provenienti da situazioni difficili è tutto caro Massimo Bernardini caro Enrico Castelli a domani grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Perché il futuro è la nostra destinazione solo se è un viaggio che facciamo insieme.